e dai è così, un'altra vittoria molto importante tra l'altro un'altra di corto muso intanto voglio fare i complimenti a il Genoa che comunque ci ha provato nonostante il divario tecnico fosse nettamente inferiore rispetto alla Lazio poi vogliamo parlare del gol fatto da Guendouzi ragazzi che giocatore è che poi ha fatto una partita straordinaria ma anche il gol, lui invece di tirare di potenza ha tirato precisione con il piattone l'ha insaccato, il gol del vantaggio dopo pochi minuti come abbiamo fatto anche nella scorsa partita che dopo siamo riusciti a portarla a casa quindi questo comunque è un buon segno che stiamo migliorando la difesa infatti adesso concediamo poco e comunque gli avversari si rendono poco pericolosi in fase difensiva possiamo dire che siamo solidi in fase offensiva è proprio male, malino anche perché è proprio l'atteggiamento che non mi piace perché non è possibile e siamo sempre le solite che te quando fai un gol poi non siamo mica la Juve di Allegri noi cioè dovremmo creare più occasioni, dovremmo giocare meglio invece no, sembra quasi che proprio ci accontentiamo segniamo il primo gol e dopo va bene non rischiamo più nulla, non rischiamo più la giocata non creiamo più tanto, siamo solidi difensivamente e portiamo a casa in qualche modo la partita che ci può anche stare, poi tra l'altro l'obiettivo era vincere perché abbiamo una rosa abbastanza ampia, migliore degli anni scorsi quindi era giusto vincere questa partita, andare avanti anche in Coppa Italia perché dobbiamo fare assolutamente bene in tutte e tre le competizioni quest'anno quindi poi tanti si lamentano di questa Lazio eccetera eccetera anche io stesso, poi alla fine però i risultati li sto tenendo a parte il campionato, anche se almeno così l'ha detto anche Sarri però io starei calmo Sarri perché io giustamente critico questa squadra più che altro per il gioco che altro che Sarriismo, qua siamo lontani è proprio l'atteggiamento che non va bene ma a parte quello, te non mi puoi dire che tutti si lamentano ogni tanto la Lazio vince perché cioè in campionato stiamo facendo male sì ok, stai facendo il tuo in Champions, non anche qualcosa in più però dopo la Coppa Italia, cioè sei agli ottavi ci mancherebbe che non passi contro il Genoa che hai una squadra nettamente più forte e dovresti ovviamente vincere ad occhi chiusi questa partita quindi comunque Sarri ha fatto bene a fare questi cambi per far infiatare un po' altri giocatori che magari giocavano di più ha fatto una scelta importante quella di mettere Pellegrini là come terzino sinistro ed è tutta un'altra roba con tutto rispetto Maruzic e Giusei là no ragazzi no Lazari a destra e Pellegrini a sinistra questi devono essere i due terzini titolari Lazari sappiamo tutti perché magari sì, a livello difensivo è meglio Maruzic oppure anche Giusei volendo non sono molto d'accordo ma comunque almeno lui in fase offensiva spinge di più Pellegrini mamma mia ha fatto un assist incredibile e poi soprattutto l'anticipo che ha fatto l'azione proprio nel complesso ha fatto un'azione spettacolare dopo ha giocato una bella partita e finalmente abbiamo visto un giocatore un terzino della Lazio che sa crossare perché neanche gli esterni ormai crossano bene quindi ragazzi a me piacerebbe vederlo più spesso Pellegrini perché abbiamo visto che anche difensivamente comunque tiene bene quindi è perfetto deve essere il titolare poi Mario Ghila ha giocato ancora diciamo che stava per fare una stupidata ma dopo ha rimediato comunque secondo me come panchinaro è molto giovane quindi può ancora crescere ma attualmente può fare solo il panchinaro che però lo sta già facendo bene quindi è anche un ottimo sostituto quindi a noi uno così ci va benissimo dopo ragazzi abbiamo visto anche Maruzic che Sarri lo ha provato come difensore centrale ecco volendo l'ultima opzione potrebbe essere anche questa visto che è un giocatore fisico l'ha già fatto quando eravamo proprio agli sgoccioli con Inzaghi che mancavano i difensori che tra l'altro vi ricordate che l'aveva fatto anche Parolo comunque era una difesa 3 era una difesa diversa ma comunque abbiamo visto che lo può fare ecco volendo quello vi ricordo anche che Maruzic nella difesa 3 non aveva fatto malissimo anzi era esploso secondo me alla Lazio proprio facendo il difensore centrale che dopo invece da quando è arrivato Sarri sta facendo benissimo anche come terzino Kamada ragazzi mi dispiace tanto ma attualmente lo vedo come una riserva perché i titolari devono essere Rovella Guendouzi e Luis Alberto poi vedete la differenza quando c'è Luis Alberto si crea molto di più cioè è tutta un'altra roba ragazzi però Guendouzi diciamo che ha preso bene le redini di Milinkovic anche se con caratteristiche un po' diverse ma diciamo cerca di dare il suo massimo comunque un calciatore validissimo e deve essere il titolare anche perché attualmente è in gran forma poi ragazzi Kamada secondo me deve essere il panchinaro di Luis Alberto non può essere il titolare attualmente lo vedo troppo indietro e non è proprio secondo me il più adatto di tutti ecco a un gioco di Sarri poi come mediano Rovella poi fai entrare Cataldi è comunque un super sub un ottimo sostituto quindi secondo me siamo messi molto molto bene intanto speriamo torni in Zaccagni perché ne abbiamo bisogno Pedro comunque si ma quando gioca tutte le partite un po' delude perché non riesce a tenere ritmi alti per tutti i 90 minuti poi vogliamo dire che Isaacson si è fatto male peccato perché stava facendo bene ultimamente comunque speriamo non sia nulla di grave intanto e speriamo che si riprenda presto poi come sostituto è entrato Felipe Anderson che con tutto rispetto l'ho visto svogliato perché lui le capacità ce le ha abbiamo visto che lui è forte il suo problema è sempre la discontinuità lo è sempre stato anche nel passato la Lazio che aveva precedentemente purtroppo a lui manca quello è un peccato perché difensivamente da anche il suo ma a livello offensivo devi dare molto di più caro mio perché sennò non andiamo molto lontano poi vogliamo parlare anche di immobile che entra diciamo che mi aspetto un po' di più da immobile però capisco che non è semplice anche quando la squadra offensivamente non gira bene è difficile che te la butti dentro poi non è che può entrare e risolverte sempre le partite oppure segnare sempre anche doppiette quindi ci può stare invece mi aspetto di più dal vice immobile mi aspetto di più da Castellanos perché abbiamo visto che è forte sa fare ottime sfonde ma deve concretizzare di più abbiamo visto fare in carriera grandi cose però deve rispettarle anche a Lazio non è che adesso ogni attaccante che arriva a Lazio deve essere una pippa mi raccomando a me che per essere peggio di Maurici se ne vuole Provedel non l'ho visto molto impegnato ma è sempre attento si sta un po' riprendendo soprattutto la difesa e la Lazio ci stiamo riprendendo non segniamo tanto ma non subiamo tanto ultimamente quindi diciamo che è un bilancio che ci sta che ci fa vincere le partite in questo modo diciamo non mi piace tanto ma comunque mi va bene lo stesso perché prendiamo i tre punti e alla fine questa è la cosa fondamentale attualmente vedendo le classifiche della Lazio in tutte e tre le competizioni poi adesso la prossima partita in Coppa Italia potrebbe essere molto probabilmente il derby contro la Roma vedremo che accadrà adesso la prossima è in campionato e mi raccomando cerchiamo di fare una bella prestazione e di vincere e portare a casa tre punti perché in campionato siamo messi proprio male sono contento che in qualche modo la riusciamo sempre a portare a casa ultimamente però se osservati noi iniziamo sempre bene i primi minuti poi segniamo e dopo basta dopo non dico che smettiamo di giocare teniamo il possesso del gioco in controllo della partita non sempre occhio attenzione però quando tu devi chiudere le partite non le fai non le fai non ci provi neanche più di tanto se arriva un altro gol bene se no amen il problema è che se fai così magari al novantesimo te la prendi in quel posto e quindi dopo perdi i punti perché gli altri ovviamente restano là e ci provano sempre è proprio l'atteggiamento che non mi piace è un atteggiamento all'allegri questo maledetto corto muso che io alla Lazio di Sarri non vorrei vedere a me ragazzi piacerebbe vedere una Lazio che ci prova sempre che fa un gol poi vuole fare un altro gioca sempre è solo che capisco che bisogna risparmiare le energie perché gioca ogni tre giorni però magari la rosa è più lunga sostituisci e di essere giocatori che si devono impegnare per tutti i 90 minuti e non accontentandosi di quello che di un gol e di provare a portarla a casa in quella maniera ecco speriamo sia solo una mentalità provvisoria ecco giusto che ci fa guadagnare un po' di punti fondamentali dopo pian piano per ricostruire delle partite con un bel gioco detto questo ragazzi io vi saluto vi ringrazio e sempre forza Lazio